Quale può essere il consiglio che mi può dare a me come Cesar Natives per arrivare un domani a diventare un Cesar Manager? Allora, consigli ce ne sarebbero tantissimi. Io posso portare la mia esperienza, ho iniziato tanto tempo fa, sono ormai un'anziana Cesar Manager. Una cosa che ho imparato, un no, non è mai un no in quel momento, cioè è un no in quel momento su quella cosa, ma non bisogna assolutamente lasciarsi scoraggiare, bisogna ritornare dopo con una proposta adeguata ai bisogni del proprio interlocutore, in un momento magari più maturo perché il problema, opportunità del Cesar Manager è che devono anticipare sempre progetti, temi, questioni e ovviamente la resistenza al cambiamento bisogna metterla in conto, ma mai darsi per vinti. Va bene, grazie allora, grazie mille.